E dirvi cosa, almeno Gianni Briguglio Appaggiorno! 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 Gianni Briguglio, essi fuori! Appaggiorno! Aspetta! Aspetta! Salisisti! Il favore fatevi parlare! Io faccio una scena, l'altra seta con le due azioni, ho fatto 30 massi, perché non hai risposto a te e neanche a loro? Ah? 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 Sì, 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 sì. Stai leggermente! Sì, 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 sì. Continuare ancora. Abbiate rispetto, salio, silenzio, l'apportare. Giappolo Moschidolz È un membri di Giano Gioso. e si vuole due due oschiella 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 il favore cosa mi fa fare ma cosa hai fatto ma c'è Franco Moschella ma c'è Franco Moschella ma cosa hai fatto ma ti sei guardando intorno e si vuoi e si vuoi guarda il don guarda il don guarda il don guarda il don non ci fu notte tanto lunga ma abbiamo rivisto l'album finalmente papacchone eh malpacchone eh malpacchone malpacchone es cava viene l'album si marro ora marro 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.